Allora io sono Piero Lapuca, sono sorpreso e positivamente sorpreso e colpito di quello che è venuto fuori grazie a questi tre giorni fatti insieme. Io sono venuto qui non con l'idea precisa di scrivere un libro, ma per riempire un vuoto che avevo, cioè del come mettere giù dei contenuti che so di avere ma non vedevo come poterli poi mettere giù e renderli pratici. E quello che invece ho sperimentato già dalle prime ore di questo lavoro fatto insieme è che passo dopo passo mi si è creato proprio un progetto chiaro e di valore. In effetti quello che mi sono reso conto è che si può fare, posso portare contenuti in maniera chiara e completa grazie a una struttura, a una sequenza che Denise e il suo staff in maniera magistrale hanno fatto sì che venissero chiariti in questi giorni di lavoro insieme. Lavoro, tantissimo lavoro pratico, è impossibile che una persona da sola si metta così velocemente a realizzare lavoro pratico con una chiarezza di sequenze come abbiamo fatto qui. Quindi consiglio vivamente a chi ha degli argomenti o chi vuole approfondire la possibilità di fare questa esperienza, perché scoprirete quanto sia possibile, e quindi vicino assolutamente alla portata di tutti, realizzare contenuti che possano essere utili per voi, per un vostro obiettivo e per le persone che avranno modo poi di arrivare a usufruire.